30 miliardi dalla nuova programmazione dei fondi europei fino a 60 sommando i cofinanziamenti nazionali. Per che cosa verranno utilizzati, cioè gli obiettivi per il 2014-2020 saranno contenuti nel documento che dovrà essere presentato a Bruxelles entro il 30 settembre. Alla fine del lungo incontro con le regioni che prima si erano confrontate durante la conferenza straordinaria convocata dal presidente Errani, il ministro per la coesione territoriale Carlo Trigilia ha annunciato una serie di accordi. Sulla verifica dell'andamento della spesa dei fondi europei della vecchia programmazione 2007-2013 attraverso un tavolo di lavoro tecnico affiancato da un tavolo di coordinamento politico e sulla concentrazione delle risorse del nuovo ciclo su tre proposte strategiche misure per le imprese, per il lavoro e per il sostegno alle economie locali, in particolare su innovazione, internazionalizzazione, digitalizzazione delle amministrazioni e delle imprese e su beni culturali e ambientali. Obiettivo riuscire a utilizzarle meglio che in passato. Innovando anche i meccanismi di verifiche e controllo affinché vi sia la garanzia di una efficientazione di tutto il sistema. È importante condividere la strategia tra regioni e governo, però poi le regioni devono essere autonome nella gestione dei programmi operativi regionali. Per quanto riguarda la riprogrammazione dei fondi 2007-2013 non ancora spesi, è stata proposta dal Ministero una rimodulazione orientandoli in particolare sull'occupazione giovanile, le imprese e le economie locali. Più difficile invece che i fondi europei possano essere impegnati come ammortizzatori sociali. La Commissione europea, ha ammesso il Ministro, esita su questo punto.